Un saluto al bianconero ragazzi e ben ritrovati sul mio canale e finalmente ritorniamo a guardare una bella partita in UEFA Champions League una bella partita di UEFA Champions League Milan, Atletico di Madrid finita 1-0 Milan e si ragazzi ha vinto in Milan, no scherzo ha vinto l'Atletico di Madrid proprio 2-1 1-2 finita la partita e cosa vi devo dire? in Milan, sono sportivo sono sportivo in Milan il primo tempo l'ha giocato davvero bene un possesso palla veloce un dai e vai veloce un gioco tattico champagne tutto veloce, tutto di prima i giocatori si capivano veramente bene e infatti il gol è arrivato in maniera meritata poi un gran gol di Leao, poi l'ha messa nell'angolino nel sette basso, nell'angolino alla destra del portiere Oblak quindi è stato veramente un gran gol poi dal limite dell'Aia dopo i rimpalli però è stato veramente un gol meritato ricordiamo che Leao trova anche una traversa clamorosa facendo una splendida rovesciata che purtroppo è purtroppo questo pallone va finì sulla traversa e quindi può credo che era anche in fuorigioco e questo è di primo tempo un primo tempo tutto per il Milan questo Pioli contento questi tifosi veramente che esultavano contenti e così finisce il primo tempo il Milan chiude il primo tempo 1-0 partiamo con il secondo tempo il riassunto il riassunto della partita partiamo con il secondo tempo e cosa succede? il devasto il devasto la catastrofe per questo Milan che nel secondo tempo veramente non ha toccato un pallone e sono sportivo sono un tifoso juventino sono sportivo juventino che dice la verità su una squadra punto il Milan nel primo tempo ha giocato molto bene nel secondo tempo il Milan non ha giocato non ha niente toccato un pallone ha fatto qualche tiro di Florenza ha fatto il tiro qualche tiro ha fatto qualche azione però ragazzi il Milan nel secondo tempo non ha toccato un pallone ha fatto pochissimi timpota perché ha usato la tattica difensiva nel secondo tempo si è visto un Milan molto difensivo perché c'è stata la forte pressione offensiva dell'Atletico di Madrid che infatti pareggia meritatamente 1-1 con Antoine Griezmann veramente gran gol al volo con un bel mancino finalmente che ritorniamo a vedere il Griezmann di prima nell'Atletico di Madrid quel Griezmann che segnava da destra a sinistra segnava da tutte le parti questo Griezmann che questo pallone te lo portava fino dentro la rete e si vedevano i tifosi spagnoli che amavano quei colori di quella squadra che amavano quel giocatore che se ne andò via da quella squadra e andò proprio al Barcellona abbandonò il Barcellona per ritornare in questa meraviglia l'Atletico di Madrid comunque non perdiamoci in chiacchie siamo sempre sull'1-1 ma poi passando dei minuti passando dei minuti l'Atletico continua a tenere che questa quest'attacco offensivo ovviamente un attacco offensivo molto molto meritato quest'attacco offensivo veramente con forte pressione offensiva ad un tratto con tutti i stiti d'Atletico con tutte queste azioni con tanto Mila in difesa e Mila anche soffre è arrivato un tocco di mano all'interno della rigore del Mila dei padroni di casa calcio di rigore l'Atletico di Madrid e là ragazzi e lì ragazzi c'è stato il pandemonio e lì c'è stato proprio il nevosismo più totale di Pioli dei giocatori milanisti dei giocatori dei tifosi tutti di tutti tutto stadio milanista tutto stadio tutti i tifosi milanisti tutti i giocatori del Mila l'allenatore tutti quelli che stavano tutti tutti quelli che erano del Mila tutti arrabbiati incavolati nervosi e infatti una infatti questo calcio di rigore che in pratica l'abito ha dato anche 6 minuti di recupero ha dato 6 minuti di recupero e Grigore è stato segnato da Suarez dal cannibale da Luis Suarez al settimo minuto dal settimo minuto al settimo minuto di recupero del secondo tempo dopo il novantesimo un Grigore che fa ricevere a Mila una grossa bastonata dietro la schiena pac 2 a 1 e così funziona il calcio quando una squadra merita di vincere ragazzi i miei merita quando una squadra gioca bene gioca bene si per carità ha giocato bene in Mila si infatti nel primo tempo si è visto un Mila che ha attaccato ha avuto una buona tattica offensiva tecnica fisica mentale tanto gioco si è visto per carità e poi nel secondo tempo ragazzi l'atletico ha dominato nel primo tempo allora facciamo così primo tempo dominio Mila nel secondo tempo dominio atletico di Madrid semplice semplice Mila gioca bene solo quando ha voglia di giocare vabbè ovviamente ogni squadra è fatta così però in Milano in questa partita si è vista molto attiva quando era bella carica bella veloce bella sprintosa poi dopo il primo tempo si sono stancati tutti si stanno incaricati poco nei spogliatori e poi nel secondo tempo l'atletico ha fatto usare molto gioco al Mila loro i giocatori dell'atletico hanno usato molto meno le gambe rispetto ai giocatori del Mila e nel secondo tempo è successo tutto quello che doveva succedere ragazzi miei come se in descrizione avete l'app onefootball la mia applicazione di calcio che mi permette di scaricarvi di ascoltarvi tutto il mondo del calcio tutto di più domani ci sia un partitone anche con i Chelsea anche del Foggia e comunque un saluto al bianconeo il bianconeo dice non tocchiamo ma il fondo ammazza la Champions è la mia vita il bianconeo dice non tocchiamo ma il fondo grazie